Ecco, grazie Diego, grazie Gianni per l'invito. In realtà questa relazione ovviamente è in parte legata alla presentazione dei risultati di Innovain, ma anche parla di altri aspetti, anche perché il progetto in realtà è arrivato a metà della strada, quindi abbiamo dei risultati che sono ancora piuttosto parziali. Ecco, vedete, nel titolo non è che ci fosse un blocco della tastiera, cioè ho voluto evidenziare innovazione in quel modo perché appunto alcuni dei risultati vengono direttamente dal progetto di Innovain. Permettetemi di introdurre questi argomenti con un paio di grafici che sono, diciamo, emblematici anche del ruolo del settore vino. Questo è un grafico estremamente recente che riguarda, vedete, il bilancio economico dell'agroalimentare italiano, dove abbastanza, non so se incredibilmente o no, ma vedete che in realtà noi abbiamo un deficit dell'agroalimentare complessivo di circa qualcosa come 5,7 miliardi di euro, che apparentemente è un po' strano parlando di agroalimentare, ma questo si spiega per il fatto che, come vedete, le importazioni sono nettamente prevalenti rispetto alle esportazioni. Quello che però ci deve fare molto contenti è che quando noi andiamo a prendere il settore vino, chiaramente il vino si conferma come una eccellenza, nel senso che noi abbiamo, vedete, questo trend di incremento sostanziale degli export. È stato toccato la soglia dei 5 miliardi di export nel 2014, quindi vedete un settore veramente in grande spolvero. Credo che questo vada a merito di tutte le persone che sono qui oggi presenti, perché evidentemente significa che, nonostante, come sapete, un calo dei consumi di vino, che oggi sono attestati intorno a 35-36 litri a testa all'anno, a fronte dei cento di un po' di decadi fa, chiaramente il settore vino è ancora evidentemente un top per noi e dobbiamo quindi lavorare per cercare di mantenere questa posizione e se vogliamo anche di migliorarla. Ci tenevo a fare questa piccola introduzione a questa premessa. Allora, i temi da affrontare sono tanti, io qui ne ho elencati alcuni, non li vado a scorrere semplicemente perché poi adesso vedremo alcuni esempi puntuali in riferimento a questi temi. Ce n'è uno in particolare, il primo, che mi sta particolarmente a cuore è che è quello che mette un po' insieme gli aspetti di grande tradizione viticola italiana e anche però di innovazione. Credo che la sfida oggi sia soprattutto quella di cercare di far andare d'accordo questi due elementi. Certamente nessuno vuole rinunciare alla tradizione, ma certamente dobbiamo anche essere pronti a cogliere gli elementi di innovazione. L'improgetto innovazione ovviamente tende ad andare in questa direzione. Volevo cominciare con un paio di considerazioni che riguardano il buonsenso. Il buonsenso dice che la sostenibilità può essere chiaramente espressa e descritta in tanti modi. Credo però che sostenibile sia anche colui che tutto sommato tende a sfruttare le risorse naturali in maniera più efficiente possibile. Credo che la radiazione solare sia l'unica risorsa praticamente gratuita a cui possiamo far riferimento nella gestione del vigneto per cui tutte le scelte che qui sono sintetizzate in maniera molto diretta e impiantistica relative alla distanza tra i filari, alla altezza delle chiome e allo spessore devono essere ottimizzate perché vedete il fatto di avere per esempio uno schema di una forma di allevamento come un cordone speronato. Un cordone speronato che in questo caso presenta a parte il filo portante almeno tre fili di arrampicamento dei germogli che quindi da una parete di sviluppo complessivo di almeno un metro e venti non è una indicazione casuale ma è un'indicazione che tende a poi creare un vigneto che sia efficiente in termini di intercettazione luminosa. Mi spiego meglio. Questa è una diapositiva diciamo un po' complessa che mi ha prestato il collega e amico professor Pagliotti come vedete e non finisce più, se sapevo così non la mettevo per la verità ma ad ogni modo vedete che in questo vigneto questi qui sono vigneti ovviamente a controspagliera vedete che l'ombra a terra è di diverse dimensioni semplicemente perché la luce intercettata cambia nell'arco della giornata a seconda della posizione del sole però guardando per esempio questa immagine voi vi rendete probabilmente conto che questo vigneto forse non ottimizza l'intercettazione della luce perché vi dà l'impressione che la distanza tra i filari sia un po' in eccesso rispetto all'altezza della chioma allora questo significa che probabilmente questo viticoltore sta perdendo luce intercettata sta perdendo fotosintetati sta perdendo qualità e probabilmente sta perdendo reddito che è un reddito che si potrebbe recuperare molto facilmente con una gestione e una pianificazione dell'impianto un pochettino più oculata dal punto di vista poi di quello che si può dire in termini di sistemi di allevamento voi sapete che la vita è famosa per essere diciamo una specie arborea particolarmente adatta ad essere allevata secondo forme geometriche le più disparate abbiamo fatto in questi ultimi anni tanti sforzi di semplificazione io credo che oggi possiamo dire per esempio che la forma classica in parete possa trovare un controaltare degno in forme per esempio libere questo è un cordone libero ma una forma libera semplicemente significa una forma in cui la vegetazione è più o meno libera di crescere dove vuole allora perché c'è interesse oggi anche verso questa tipologia questa geometria di chioma essenzialmente per due motivi un motivo è fisiologico ed è estremamente rigoroso nel senso che vedete queste sono misure fatte di fotosintesi netta PN su intensità luminosa questa è la chioma diciamo senza fili ovvero è il tipo di chioma libera che vedete qui che una volta poi resa vincolata cioè questa è la stessa chioma misurata prima in questo assetto e poi sono stati presi dei fili è stata schiacciata in maniera tale da riprodurre una chioma classica e vedete che la fotosintesi misurata con un sistema a chioma intera si riduce di un quarto questo dato è molto significativo perché non sto parlando di chiome diverse questa è la stessa chioma misurata prima in un modo e poi nell'altro il che significa evidentemente che io posso avere due casi in cui ho la stessa superficie fogliare ma un rendimento fotosintetico che è totalmente diverso questo chiaramente è un dato che incide poi alla fine anche in termini di reddituale l'altro motivo per cui c'è interesse verso queste chiome diciamo di tipo aperto sorgente è questo questo è un grappolo di Sangiovese che presenta vedete in fase di maturazione una colorazione decisamente non soddisfacente non è certamente un caso che quella colorazione rosa sia proprio quella che si riferisce alla parte più esposta del grappolo sappiamo bene ormai ci sono stati tantissimi studi che hanno dimostrato che quando gli acini specialmente di alcune varietà rosse specialmente di alcune varietà come il Sangiovese sono sposti ad eccessi termici questo non è tanto un problema di eccesso luminoso ma di eccesso termico intendo dire oltre 35 gradi noi abbiamo una diciamo ridotta sintesi di antociani ma abbiamo anche pare una accelerata degradazione di antociani quindi tipicamente l'acino rimane rosa da questo punto di vista quindi non sorprende che scusate non sorprende che una chioma tipo questa libera che vi ho fatto vedere prima qui vedete un particolare della fascia microclimatica dei grappoli vedete il microclima di questi grappoli non possiamo certamente dire che sia un microclima di elevata esposizione è un microclima di prevalente luce diffusa con alcuni lampi di luce che si diciamo che penetra all'interno della chioma ma che da un punto di vista qualitativo sta veramente prendendo piede in diverse aree viticole mondiali se voi in California oggi c'è una sorta di riconversione di molti sistemi di allevamento da forme classiche spalliere a forme che in qualche misura garantiscono una copertura parziale dei grappoli proprio per questi motivi e il discorso potrebbe essere girato anche sui vitigni bianchi per altri motivi di carattere compositivo ecco allora poi tornando invece un pochettino ad un tema che mi è insomma particolarmente caro è quello di come interpretare gli interventi di potatura verde qui c'è un vecchissimo grafico direi purtroppo nel senso che questo è un grafico che mostra dati addirittura della mia tesi dottorato in cui c'è l'andamento diciamo della fotosintesi netta nella vite in funzione della posizione della foglia lungo il germoglio tutti noi sappiamo che fino alla fioritura sono le foglie basali quelle più funzionali e dopo dall'invaiatura in poi sono invece quelle apicali allora questa è una conoscenza fisiologica assestata ma il problema è come noi possiamo sfruttare da un punto di vista tecnico queste informazioni allora queste due frecce che vedete io ho messo sono frecce che vi fanno capire dove vorrei andare a parare cioè sulla base di questa conoscenza e poi sulla base di questa conoscenza negli anni abbiamo cercato di costruire delle tecniche di potatura verde che fossero finalizzate a risolvere problemi specifici la prima che si riferisce a questo tipo di diciamo dato fisiologico è quella della defogliazione precoce di cui non parlo perché ne abbiamo parlato tantissimo semplicemente vi ricordo che nella stragrande maggioranza dei casi a seconda delle finalità comunque un risultato estremamente consistente che noi abbiamo sempre trovato con questa tecnica è quello che vedete raffigurato qui cioè questo è un grappolo di Trebbiano Romagnolo classico grappolo ipercompatto ipersussentibile ai marciumi che vedete in termini di risposta alla defogliazione precoce può dare veramente dei risultati eclatanti se non eccellenti poiché la morfologia del grappolo cambia totalmente e riusciamo ad avere a disposizione un grappolo spargolo che altrimenti per altre vie diventa estremamente complicato da ottenersi però ripeto non parlo di questo perché è stato un argomento ormai diciamo che tendiamo a configurare come una cosa assodata ma ecco sempre insieme ad Alberto Pagliotti abbiamo lavorato parecchio in questi ultimi anni su la secondo aspetto cioè il fatto il fatto di dire noi sappiamo bene che dall'invaiatura in poi sono le foglie apicali quelle che danno il maggior contributo fotosintetico bene allora perché fare questo tipo di intervento questo vedete è una cosa apparentemente strana fate conto qui siamo intorno all'invaiatura una defogliazione fatta però nella parte alta della chioma non nella parte bassa dove si fa normalmente perché è chiaro che è un intervento che è mirato ad ottenere uno scopo ben preciso e lo scopo è quello di avere un rallentamento di maturazione nei casi in cui ci viene lamentato che la maturazione è troppo veloce è una maturazione zuccherina troppo accelerata che fa rimanere indietro invece la maturazione fenolica perché l'effetto si ottiene l'effetto si ottiene perché noi appositamente andiamo a rimuovere una parte delle foglie più funzionali il risultato è evidentemente per esempio questo qui ci sono vedete due epoche di defogliazione di pre e di posto in vaiatura alla vendemmia iniziale avete vedete un significativo decremento di solidi solubili però ecco questo è il dato che è particolarmente interessante vedete che invece la quantità di antociani non era cambiata questo significa naturalmente che la tecnica è efficace nell'ottenere il risultato che noi vogliamo indurre ovvero rallentare selettivamente l'accumulo zuccherino senza penalizzare a tempo stesso l'accumulo di antociani tecnica che poi viene diciamo tradotta in realtà in maniera molto semplificata perché voi capite bene che effettuare una defogliazione meccanica in una zona della chioma in cui non ci sono grappoli tra le scatole è estremamente semplice ed estremamente diciamo lineare da farsi perché posso permettermi anche di velocità operative che certamente non mi posso permettere qualora dovessi trattare anche con la presenza dei grappoli stessi ci sono lavori pubblicati già da un paio d'anni un altro degli approcci che questo qui vedete tutte le volte mi sono dimenticato di dirlo me ne scuso quando vedete il simbolo di progetto innovai nella diapositiva significa che i dati vengono evidentemente da quel progetto allora vedete in questo caso c'è un altro approccio che si sta rivelando interessante cioè ripeto sempre quando c'è l'esigenza di rallentare una maturazione zuccherina troppo accelerata un problema peraltro sentito specialmente in alcune aree viticole un'altra delle possibilità è quella di usare sostanze antitraspiranti un'antitraspirante è sostanza chimica che viene peraltro naturale sono resine di pino essenzialmente che vengono irrorate sulle foglie c'è una parziale chiusura stomatica c'è una parziale riduzione dei meccanismi fotosintetici e vedete per esempio nel 2013 un'annata particolarmente favorevole all'accumulo zuccherino qui stiamo parlando di Barbera nell'area dei Colli Piacentini vedete 26 gradi Brix per quello che riguarda il controllo mentre queste due tesi di trattamento con in questo caso VaporGuard che era il principio chimico ha dato un sensibilissimo rallentamento di maturazione che è stato presente anche nel 2014 peraltro annata opposta dal punto di vista climatico molto piovosa quindi chiaro che qui mettiamo in cassaforte un effetto di rallentamento zuccherino ma questo in un certo senso è abbastanza banale e atteso quello che invece non è affatto banale è quello che c'è dopo cioè quando vedete nel 2013 noi abbiamo fatto una regressione tra il contenuto di Antociani e la gradazione zuccherina vedete questa è la relazione lineare che uno si attende ma ecco volevo attirare l'attenzione vostra su questi due punti di intercetta della curva di accumulo zuccherino con l'asse X e qui vedete in pratica che mentre diciamo nel non trattato voi avete che tutto sommato gli Antociani cominciano a accumularsi quando più o meno abbiamo 10 gradi Brix nel trattato invece con l'antitraspirante l'accumulo di colore comincia ad una gradazione zuccherina più bassa 8,2 Brix e questo significa ancora una volta che questo trattamento è capace di agire in modo selettivo e positivo sull'accumulo degli zuccheri e sull'accumulo del colore cosa non semplice da farsi perché i due elementi sono evidentemente molto legati tra di loro un ultimissimo risultato che ci ha dato particolare soddisfazione che deriva sempre dai novine è questo cioè abbiamo fatto anche un confronto estremo consentitemi di dire cioè un confronto che mette appunto in comparazione una situazione diciamo noi la chiamiamo di sourcing cioè la quantità di foglie per unità di peso ottimale in questo caso immaginate un germoglio che ha 12 foglie e da un solo grappolo con questo tipo di configurazione noi sappiamo che la quantità di superficie fogliare per unità di peso è ottimale non è limitante è un trattamento che uno non vorrebbe mai avere nella propria vigna e cioè in cui si riduce ad avere solamente tre foglie per grappolo presente cosa che non auguro veramente a nessuno caro Diego anche se ogni tanto magari capita no? anche questo allora che cosa è venuto fuori da un'elaborazione fatta anche con dei modelli matematici piuttosto interessanti allora vedete non è sorprendente notare naturalmente che il trattamento poveretto che aveva solo tre foglie per grappolo praticamente non è riuscito ovviamente a maturare lo vedete qui mentre il trattamento con le 12 foglie ha raggiunto una maturazione accettabile questa è un'immagine dei nostri sistemi di scambio gassoso per chiomi intere che ci consentono di avere un dato integrato a livello di chioma intera perché altrimenti sarebbe particolarmente complicato derivare un dato di chioma da misure puntiformi su un sistema complesso come la chioma stessa ma vedete il dato molto carino è questo qua è in questo grafico qui dove c'è la proporzione di fotosintetati in percentuale che vengono usati in termini di accumulo zuccherino allora voi vedete purtroppo che il trattamento con sole tre foglie è quello che investe moltissimo direi quasi tutto in zucchero e non investe per niente in colore allora cosa vuol dire vuol dire che quando noi ci mettiamo in una condizione di carenza di superficie fogliare rispetto alla produzione l'inghippo è che la vite in una sorta di compensazione naturale tende comunque ad usare quei pochi assimilati per l'accumulo dello zucchero e invece va a penalizzare ancora di più l'accumulo del colore allora da questo punto è molto utile sapere quindi che dobbiamo darci il più possibile da fare per arrivare in invaiatura cioè al momento critico con un bilancio sourcing che sia ottimale e possibilmente non limitante perché altrimenti poi abbiamo una strada tutta quanta in salita allora io ho 11 minuti 16 secondi perché mi dovrebbero servire a sviluppare la seconda parte sulla quale vado molto più rapido un altro tema importantissimo risposta dei vitigni allo stress idrico un'immagine emblematica vitigno sangiovese vitigno montepulciano stesso vigneto stessa intensità di stress guardate il vitigno sangiovese sulla sinistra dite quanto è messo male guardate il vitigno montepulciano sulla destra e dite quanto è messo bene bene questo è quello che vi dicono gli occhi la fisiologia vi dice una cosa totalmente diversa nel senso che quel sangiovese lì vitigno che viene definito da questo punto di vista ottimista sta facendo diciamo un'opera buona nel senso che si sta liberando di foglie basali vecchie proprio per cercare di risparmiare acqua ma al tempo stesso se voi misurate la fotosintesi di queste foglie apicali è ancora una buona fotosintesi quindi è un vitigno che tutto sommato vi viene incontro perché vi aiuta a raggiungere comunque una maturazione decente il montepulciano è bellissimo ma è un egoista è un pessimista mi dispiace dirlo nel senso che il fatto che sia così bello è perché chiude gli stomi immediatamente chiudendo gli stomi risparmia acqua ma non vi da nulli in cambio in termini di fotosintesi di maturazione quindi vedete grande lavoro da fare sulla risposta fisiologica dei vitigni allo stress non fidiamoci assolutamente dell'aspetto visivo dobbiamo andare ovviamente più in profondità adesso devo accelerare assolutamente e volevo farvi vedere i risultati in particolare di alcune prove che stiamo facendo in maniera sistematica su alcuni vitigni questa è una prova di stress idrico di pre-invaiatura che abbiamo imposto appunto su Sangiovese riducendo la quantità di acqua al 70 al 50 e al 30% dell'evapo traspirato prima di andare a reidratarlo e vi faccio vedere molto rapidamente cosa viene fuori il dato che dovete in realtà guardare è soprattutto questo perché il dato vi dà la cosiddetta efficienza di uso dell'acqua cioè il rapporto tra la fotosintesi e la traspirazione che noi vorremmo sempre essere massimo allora quello che si vede in maniera molto chiara è che finché voi fornite almeno il 70% dell'evapo traspirato l'efficienza di uso dell'acqua vedete non cambia ma quando andate a ridurre questa quantità di acqua reintegrata al 50% l'efficienza cala qual è il risultato applicativo il risultato applicativo è che chiaramente in uno stress eventuale di pre-invaiatura in un caso come questo questo vitigno non può non avere almeno un 70% di reintegro di quella che sarebbe la massima richiesta traspiratoria stiamo facendo molto lavoro su questo perché su molti vitigni italiani non abbiamo sufficiente informazioni salto alcune diapositive perché devo appunto andare alla parte finale mi piace usare questa diapositiva Diego per introdurre il tema dell'innovazione della tradizione c'è la gallina che guarda il drone anche con un certo sospetto dicendo ma tu chi sei cosa vuoi nel senso che andiamo a cercare di capire allora anche un po' e chi chiaramente cerco di coprire in maniera spero adeguata l'ultima parte cioè quella legata alle nuove tecnologie allora naturalmente tutti siamo presi da questi temi abbiamo anche noi avviato già da alcuni anni alcune prove relative per esempio a viticoltura di precisione realizzazione di mappe di vigore ci sarà Matteo Gatti del nostro dipartimento che nel pomeriggio terrà una relazione specifica su questo io semplicemente anticipo un paio di diapositive per cercare di enfatizzare un aspetto che mi sta particolarmente a cuore vedete questa è una mappa di vigore una delle tantissime che ormai siamo abituati a vedere fatta sui colli piacentini un vigneto di barbera di un ettaro e due più o meno di superficie allora facciamo la mappa di vigore abbiamo la solita classificazione in questo caso in tre classi alto, medio e basso allora cosa abbiamo fatto però abbiamo fatto a terra sulla base di questa mappa una caratterizzazione molto attenta dal punto di vista agronomico allora la caratterizzazione effettivamente mi dice che per i tre livelli di vigoria se voi guardate per esempio un parametro di vigoria universalmente accettato è il peso del legno di potatura effettivamente vedete che il basso vigore è effettivamente basso 485 grammi rispetto a 900 grammi di peso di potatura nel caso dell'alto vigore allora questo già ci comincia a suggerire che effettivamente quel basso vigore è effettivamente un basso vigore e quell'alto vigore è effettivamente un vigore piuttosto alto ma da un punto di vista produttivo e qualitativo a che cosa è corrisposto poi quel livello di vigore perché questo è un po' il tema il tema è interessante perché vedete effettivamente l'alto e il medio vigore mantengono produzioni per vite notevoli mentre il basso vigore si attesta su produzioni decisamente più contenute guardate anche il dato della compattezza del grappolo che è interessante perché chiaramente si riduce ma guardate poi gli aspetti qualitativi vedete l'alto vidore vi dà 22 briggs con 11,3 di acidità insomma un pH di 3,11 questo è un barbera che insomma forse qualche problemino potrebbe averlo certamente quel viticoltore non sapeva di avere nel suo impianto sia pure così ridotto anche un medio un basso vigore che gli dà una gradazione zuccherina un'acidità e altre caratteristiche non da dimenticare anche un contenuto di potassio decisamente inferiore che gli consentirebbero di fare un prodotto totalmente diverso ecco allora mi piace sottolineare il fatto che mi piacerebbe vedere più spesso mappe di vigore che danno i livelli di vigoria che vengono fuori ma che poi vengono correlati effettivamente a quello che viene osservato a terra in termini di prestazioni qualitative e produttive chiaramente rimane poi anche questo risultato interessantissimo del fatto che il basso vigore mi induce anche per una tolleranza indiretta da morfologia grappolo una riduzione dell'incidenza di botrite per dire non è ovviamente non dobbiamo dare per scontato che nel momento in cui esiste un alto un medio un basso vigore in medio stat virtus in questo caso la virtus sta nel basso e quindi teoricamente il viticoltore dovrebbe tendere ad uniformarsi al basso vigore non al medio vigore a meno nel mio punto di vista vado a concludere con una diapositiva che so fa un po' di paura però se noi dobbiamo parlare di cambio climatico di previsioni di cambio climatico cerchiamo cercare di capire come la vite cercherà di adattarsi al cambio climatico dobbiamo convincerci che anche i modelli sono uno strumento che deve essere utilizzato se no non ce la possiamo fare allora vedete questo è un modello complesso pubblicato recentemente all'interno di un altro progetto europeo che è il modem IVM che adesso farò vedere in un attimo negli ultimi tre minuti che mi rimangono a prescindere dalla complessità in realtà il modello è semplice per due aspetti il primo è che gli input che richiede sono input al 90% solo climatici e poi c'è qualche input legato alla caratteristica geometrica del vigneto ma guardate gli output gli output sono di particolare interesse perché vedete area fogliare e anche produzione pendente vedete peso fresco dei grappoli cioè in poche parole è un modello dinamico che è in grado di predire con buona precisione durante la stagione come evolve la superficie fogliare e come evolve anche la produzione pendente quindi è un modello che è in grado di darci un andamento stagionale di quel famoso rapporto di source sink che prima abbiamo identificato come superficie fogliare su produzione che è quello che secondo me c'è sempre un po' mancato noi siamo sempre stati abituati a ragionare in termini di un rapporto superficie fogliare produzione calcolato alla vendemmia ma calcolato alla vendemmia è il punto di arrivo cosa è successo prima cioè cosa significa per esempio poter avere a disposizione grafici di questo genere in cui noi abbiamo l'andamento stagionale queste sono quattro tesi diverse due sistemi di allevamento l'andamento stagionale di questo rapporto che ci consente di dire per esempio all'invaiatura che livello abbiamo di superficie fogliare su produzione abbiamo un metro e mezzo per chilo due metri quadrati zero cinque in poche parole ci consente di fare una diagnosi una diagnosi e quindi di emettere eventualmente attraverso dei sistemi di supporto alle decisioni dei warning come si suol dire ovvero devo fare un diradamento dei grappoli certo posso anche guardare la vite però mi sentirei più tranquillo se in invaiatura avendo questo strumento io posso in qualche modo capire numericamente se effettivamente mi trovo in questa condizione cioè una situazione di oggettiva carenza di superficie fogliare e quindi diradando mi riporto in questo punto ma io potrei già essere in questo punto e allora se vado comunque a diradare è chiaro che guadagno molto meno anzi probabilmente ci perdo ultimissima cosa prima di andare a chiudere questi sistemi di supporto alle decisioni come sapete si stanno rivelando uno strumento anche estremamente efficace per indirizzare la tecnica irrigua ci sono modelli di bilancio idrico che rilasciano per esempio degli allarmi questo è un modello di bilancio idrico che viene stato sviluppato all'interno del progetto modem IVM che viene oggi commercializzato in termini di servizio dallo spinoforta con la quale noi collaboriamo da tanto tempo e vedete il viticoltore ha la possibilità di essere avvertito di allarmi di possibili allarmi idrici c'è un primo allarme che viene rilasciato a 40% di acqua disponibile poi altri allarmi e chiaramente questo lo aiuta per cercare di capire in che condizione è voglio dire semplicemente una cosa questi sistemi di supporto alle decisioni ho visto che il tempo è scaduto dammi solo due minuti Diego ti saprò ricompensare poi in futuro allora sono particolarmente utili soprattutto nei casi in cui per effetto del cambio climatico un'azienda che non è mai stata abituata ad irrigare devi irrigare allora in questo caso la scelta cruciale da fare ancora prima di capire quant'acqua devo dare quando è quella di capire se devo irrigare perché se io per caso irrigo quando non c'è bisogno poi faccio un danno questi sistemi sono estremamente utili chiudo finalmente con ringraziamenti e mi prendo tre secondi di pubblicità anche per semplicemente divulgare il fatto che abbiamo recentemente anche licenziato un testo che si chiama insieme a tanti autori per la verità il testo è coordinato da me da Pagliotti e dalla professoressa Silvia Stroni questo testo della nuova viticoltura in cui potete trovare buona parte anche di quello che vi ho dato in estrema sintesi in questa occasione vi ringrazio